È iniziata la visita pastorale del Vescovo Armando nelle parrocchie di Santa Maria Goretti, San Paolo Apostolo e Gran Madre di Dio, con la solenne celebrazione eucaristica di apertura domenica 6 novembre nella parrocchia di Santa Maria Goretti. L'apertura della visita pastorale per le nostre comunità, affermato Don Giorgio Giovanelli, tempo di grazia e di conversione e segna l'apertura anche di quella collaborazione pastorale che come sacerdoti siamo entusiasti di poter vivere. Le nostre tre parrocchie oggi lo accolgono come padre, maestro e pastore, ben consapevoli che questo è un tempo di vicinanza che vogliamo accogliere come dono del Signore. Ha proseguito Don Giovanelli a nome anche di Don Benito Verdini e Don Giuseppe Marini. Nell'Omelia il Vescovo, dopo un'attenta riflessione sulle letture della liturgia domenicale, dove ha sottolineato che il cristiano deve mettere l'attesa della vita eterna al centro della propria fede, ha incentrato la sua omelia sul significato della visita pastorale per le tre comunità parrocchiali. Oggi comincia in questo territorio, è proseguito il Vescovo, la visita pastorale che farà riconoscere la diocesanità come una dimensione fondamentale della vita cristiana. Oggi la storia ci dice che dobbiamo unire, non distruggere, unire le forze, le competenze e questo territorio sarà capace di farlo. In questo mese di visita pastorale, ha affermato il Vescovo Armando, non vengo per controllare, ma vengo per non perdere la mia dimensione di popolo. Inoltre il motivo che mi accompagnerà sarà consolare, irrobustire, fortificare e narrare la fede, consapevole di quanto oggi sia difficile trasmetterla in questo mondo. Per le tre parrocchie in programma tanti momenti di incontro con il Vescovo, tra cui significativi momenti comuni, come gli incontri con i consigli di partecipazione, con le caritas parrocchiali, con i consigli dell'azione cattolica, con il CSI e il mondo dello sport e con i giovani. La visita pastorale per queste tre parrocchie della città di Fano si concluderà domenica 4 dicembre con la Santa Messa presso il Palas Aliende.